ed eccoci qui signore e signori alla seconda sessione di borderline the pre secret with gabbroke and liamores che durerà un paio di ore si spera ora invitiamo e partiamo bello eh si e via maledette cuffie qui che roba ciò questo questo io ho due anni tolg sono felicissimo abbiamo abbiamo la missione di tolg che direi che era la priorità massima proprio e poi si abbiamo quella di nova e poi ok perfetto perché io un'arma di moxie non ne ho più quale idea che non c'era prima e non ho assolutamente idea del perché si trovi qui ah ce l'ho anch'io ah è l'arma della missione ah ok c'è scritto mission weapon sai com'è eh non avevo letto non avevo letto ma aspetta perché non si vede oddio oh buoni 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 il laser fa abbastanza cacare coi dragon si anche perché esistono a fuoco e appunto Aspetta che faccio sarà andando pure solo un punto esperienza dai oh ahia Ah, è vero che con lui non... Aspetta, grazie. Come si fa il turbo? F, F. Ah, su controller non ho più paia idea. Ah, su controller. Beh, è andata bene lo stesso, dai. Uh, e questi? Dobbiamo attaccarli con... Ah! Sono quelli pacifici che vanno sparati con l'arma di Moxie. Ah. Credo. Ahia, malissimo. Dobbiamo farli caricare la macea, ok. Allora, bisogna attirarli qui dove ce sono le... Non dovete ammazzarli. Dove, aspetta. Va bene. Eh, ho letto, sì. Dove sta... Ah, lì, lì, ok, ho visto. Eh, dovrebbero caricare qua. Ma non ci limita sta mossa. Rossigeno. Ci ci mette qua davanti. No, dico questo, il corpo... Oh, che... Oh, che... Oh... 4 un 4 4 4 4 4 4 4 4 4 voglio razza ok per me è indifferente io la torce lo già quindi anche io ho due armi tog quindi direi che oh maledetto ok no no dai sotto andiamo dalla tizia australiana merda 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 eh ciao turbo ero usato eeeh merda merda bene meglio adesso ah beh sono arrivato eh fatto come me la volta scorsa tutto calcolato eh certo una volta testa una volta testa la mia vita è ok la gente piace esplosioni ah tu stai dicendo che non 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 esplosioni non nooo mi piace esplosioni si si mi piace adesso vuoi andare esplosione non nooo oh poveretto ah ma secondo te ma questo pazzamco è interessante wow cori americani da parte questo posso usare a posto no vabbè posto delle evolve o posto il fucile bello e della dalle quindi spara guardi più 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 io ho provato non so come funziona le armi laser con con le skill di nisha ma è devastante e vabbè cosa si io avevo la un'arma laser a raggio e allucinante con la skill di nisha diventa diventa infallibile e quindi se però scegli il ramo rifle woman io uso il ramo con due pistole però il mio personaggio è buono con il lavoro poco 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 po poco 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 spesso abbastanza velocemente aspetta più puoi vivere mi lo sto facendo che usa abbastanza piano un'altra 2 arrivo subito non me lo sapevo che aveva la funzione che ghiacciava tutto eh, non l'avevo visto io sì, però non ci fa vabbè vabbè, questi resistono ma belli questi momenti usate ma ah no, siete dall'altra parte beh ma siatta non ci sono eh, dov'è bisogna andare qua ah, sì, andiamo abbiamo capito che forse sta imparando a guidare con il controllo se lo possiamo fare vabbè siamo già stati qui siamo andati per la missione secondaria come si fa e vabbè ehh... Gabriele si disconness ah si ho visto adesso che senti bene? ti chiamai questo un smac e tu hai rascinire gli autotaggeting ma il fatto è che mi... eh il fatto è che mi fa attaccare i tuoi droni e non te eh perchè io sono furbo eh si allora vediamo di rinvitarlo ok vediamo Sam è già ossigeno adesso sono si sentiti sentiamo però io non vedo tu ecco adesso si è apparso anche bene eh si si sono arrivato adesso ero leggermente crashato di peso proprio ma crash proprio del gioco? o di internet? si si perchè non mandava più l'audio no no era il gioco tra l'altro qui ho letto che c'è un modo per tipo attivare un boss segreto extra si 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 pensavo fosse il mio problema di cuffie prima ma invece per fortuna era solo un problema di crashato il gioco scusate un attimo mi sa che è meglio usare il fusile da cecchino si si ma no the Greco tudo oh questa sembra Check il Sì. ah umani conto dove fosse gasa che buono si che merino un po' di e sicuramente la sicurezza. Bisognerebbe disabilitare tutti quelli al stesso tempo per ottenere la sicurezza. oh mio dio magnifico faccio così tanti danni eh però vai finchè ora mia skill beh con i laser non è così male il laser è abbastanza preciso no ma sto usando ho deciso di usare il fucile da cecchini dove sono le cose da disabilitare ah ma è lì c'è una telecamera che una bug ha vede la vita shock camera ok sparammi e deve buona buona ah qua forse che qua in mezzo no ma c'è da farsi sparare finchè non si no però nella posizione giusta perché io sono esploso vicino alla no dobbiamo farlo tutte contemporaneamente me ne da tre così ok no bisogna sempre usare la nuova quindi si si no è chiaro no 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 vai su ok no mi esplode troppo poche volte quante volte esplode una eh una sola volta eh perché qua c'è una qua una qua una qua una qua una qua e sono quattro e poi c'è la quinta quindi ci dobbiamo mettere in posizione diversa e faccio saltare tutti in aria la quinta non la trovo perché è la cassaforte si una dice che è the safe ah si una è the safe shock cameras and safe quella può essere una buona tattica no 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 la che c'è c'è un oggetto e una pistola torg il password è forse ma dai non c'è non c'è nessun'altra questa no no c'è che mi resta solo quella principale ah ok vabbè dobbiamo portare questa qui casomai si vai con fast travel vai con fast travel bo no e e Grazie a tutti.